La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge. Articolo 1. Autorizzazione alla ratifica. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali. a. Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004. b. Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.